Ciao a tutti, il networking è un gioco di squadra. Già due anni fa avevo iniziato a parlare di una soluzione innovativa e sostenibile che si chiama T-Notice per dematerializzare tutta la postalizzazione di un'azienda. Sono felice quest'anno di poter annunciarvi che Banca Popolare Sondi, la prima banca tradizionale, ha utilizzato questo servizio e troverete nel link il comunicato stampa che rappresenta un vero caso di successo della trasformazione digitale. Fatemi sapere voi cosa ne pensate così ne discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione.